In Giappone si osano praticare operazioni di trapianto impensabili in qualsiasi altro paese del mondo. Costa circa 3.000 euro e i rischi sono a totale carico del paziente. Costa circa 3.000 euro e i rischi sono a totale carico del paziente. Costa circa 3.000 euro e i rischi sono a totale carico del paziente. Costa circa 3.000 euro e i rischi sono a totale carico del paziente. Grazie a tutti.